Nuovi nemici si sono manifestati in questa casa, oltre ai lavoratori che stanno rifacendo il tetto della casa di fianco e oltre a questo maledetto raffreddore che da una settimana non mi dà tregua, sono tornate loro, nel loro ultimo attacco prima della morte. Le ZANZARE! L'italiano tempo bene! Zanzara! Maledetta zanzara! Il termine è divertente perché la prima attestazione ce l'abbiamo nel 1300 circa, nella lingua volgara italiana, ma deriva da un termine latino tardo che è ZINZALA, ZINZALAM, che in realtà è interessante perché ha un'origine onomatopeica, da ZINZAN, che dovrebbe essere il suono che fanno le zanzare quando ti passano nelle orecchie e tu vorresti semplicemente dormire. Tra l'altro, non sapevate che soltanto le zanzare femmine vi succhiano il sangue e che non gli serve neanche per nutrirsi, ma perché hanno bisogno di un liquido caldino per scaldare le loro uova? ZANZARA BEST MOTHER EVER proprio! Esiste anche un ZANZARA che è più raro rispetto a ZANZARA e questa voce onomatopeica viene fuori in tantissime lingue, ma proprio tante. Abbiamo il portoghese ZINIR per ronzare, abbiamo un altro termine latino che è ZINZILULARE per fischiare, e abbiamo l'italiano ZIRLARE, anche se anche questo è molto raro, che è appunto il verso che fanno i tordi. La cosa più bella delle zanzare è sapere come vengono citate nei diversi dialetti, per esempio in parmigiano vengono chiamate CIRIBIGULE, in Veneto ZINSALE, a Senigallia nelle Marche FRELLA, nel Friuli Venezia Giulia MUSSON o MUSSAT. E a casa vostra com'è che si dice ZANZARA? Fatemelo sapere sull'account Instagram oppure sull'account Instagram che è quello della trasmissione. A casa mia si chiama stronza di merda. A domani!